L'Europa, la fortuna, la fortuna, la fortuna. Via! Governori assassini, siamo tutti trattestini. I primi due... ecco sta scendendo in questo momento il terzo profugo. Vedete che sta salendo il ministro del Rio, se non sbaglio. Eccolo lì. Lo vedi? Sta stringendo le mani a del Rio. Sono stati due fermi, sì, il procuratore Salvi e i suoi uomini hanno garantito due fermi e quindi è il segno di una risposta che c'è di fronte a questi trafficanti. Tra i superstiti. Tra i superstiti. Il governo, come avete visto, ha stimolato una presa di coscienza più forte da parte dell'Europa. Il presidente del Consiglio è riuscito a ottenere la convocazione del Consiglio europeo. E' riuscito a ottenere che vi fossero dieci punti di impegni veri questa volta da parte di tutta l'Europa di fronte a queste tragedie che peraltro sono ancora in corso. E quindi noi siamo voluti semplicemente venire qua per dare il nostro grazie a questi uomini, a queste donne della Guardia Costiera.